Passaggio di M Non vedo bene quel piccolino lì Sì, mi sembra un po' Sì, mi sembra un po' Sì, mi sembra un po' Ah, infatti è l'attività di Uvalidu E poi, scusami, vai l'attività di una parte E' un po' Ma va aiutarlo, Lazorone Ma vai aiutarlo Ma vai aiutarlo E' un po' E' un po' Quello Così proprio Ci sono paura di casa Anche, ha seguito il suo padre anche il Sergio ma tu potevi farlo sui suoni vuoi vai Sergio Vai giù, vai giù ma pisciare giù sotto nel fiume che era più comodo no e va fin dove è andato suo cioè cazzo sei qua che facevi una pisciata più lunga della tua vita perché arrivavi giù fino in valle e sei andato a farla lì o la moglie o la devi lasciar giù di là piano due sono le cose perché se la lasci andare giù va giù e questo me lo ricordavo che era aspetta vai vai avanti giù